Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva anche il bonus divani e divani. Il bonus divani non è il bonus reddito di cittadinanza, quello ormai è destinato a, chiamiamolo il bonus reddito di cittadinanza, finirà a fine luglio per tutti quelli che sono e hanno la possibilità di lavorare e di cercarsi un lavoro. Lavoro come ai vecchi tempi, si tornerà come ai vecchi tempi, che la gente dovrà cercarsi un lavoro come hanno fatto tutti. Allora, nell'elenco dei bonus mobili ci sono divani ed elettrodomestici, è la legge di bilancio del 2022. 8.000 euro anziché 5.000 euro che era il limite di spesa detraibile al 50% dall'IRPEF a partire dal 2024, e così il bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma grandi, resta destinato all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero patrimoniale edilizio. Le spese valide per usufruire di questa agevolazione sono quelle sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024. Nella guida aggiornata, appena pubblicata dall'Agenzia dell'Entrata, viene però chiarito che cos'è cambiato dopo le modifiche che hanno fatto alla finanziaria di quest'anno, con la lista di quali beni. Intanto andiamo a vedere chi ha diritto al bonus mobili e i divani ed elettrodomestici. Allora, detrazione del 50% dell'IRPEF, delle spese fino a 8.000 euro, sostenute nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello redditi persone fisiche. Spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, come ricorda l'Agenzia dell'Entrata, nel caso di una famiglia, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dell'altro, il bonus non spetta a nessuno dei due, mentre se si ha comunque diritto al bonus mobile, anche in caso di cessione del credito lo sconto in fattura. Andiamo a vedere poi la data d'acquisto, perché è importante anche quando sono stati comprati. Per avere questa agevolazione bisogna realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Quindi a partire dal primo gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici, attenzione, la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dallo stesso immobile, oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile, ma l'intervento cui è collegato, l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente. Allora, gli interventi ammessi sono manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione sui singoli appartamenti ordinaria non danno diritto al bonus, mentre lo danno quelli sulle parti comuni degli edifici residenziali, ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza, restauro oppure risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile. Intanto, le detrazioni spetta per l'acquisto di mobili ed elettroni domestici nuovi. Quali cose si possono comprare? Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione, sono escluse porte, pavimentazioni, tende e tendaggi. Poi, quali sono i grandi elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciugasciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento? Gli elettrodomestici non devono essere di classe energetica inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non sia stato ancora previsto l'obbligo. Ma tra le spese da portare in detrazione si possono includere anche quelle di trasporto e di montaggio, quindi l'invio, il costo dell'invio. La detrazione del 50% per solo il 2022 va calcolato su un importo massimo di 10.000 euro che scendono a 8.000 per il 2023 e a 5.000 per il 2024. Il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021 e che la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Esatto, quindi la detrazione, come succede, deve essere divisa in 10 anni dove ogni anno ha pari importo e poi 10 anni vanno poi divise mensilmente la quota. Ecco, quindi questo acquisto è diviso in 10 anni. I pagamenti come devono essere eseguiti bonifico o carta di debito o carta di credito. Non è consentito invece pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico non è necessario utilizzare quello soggetto a ritenuta appositamente predisposto da banche e poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è emessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, spiega l'Agenzia delle Entrate, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto o montaggio dei beni. Niente bonus per gli interventi di riqualificazione al 65%. La sostituzione della caldaia dà diritto al bonus e la detrazione non può essere ereditata e nessun vincolo temporale per l'acquisto dei mobili e la fine dei lavori. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.